Ciao a tutti, bacine enormi dalla vostra Nica, come ogni lunedì, play with me! Sì, la voce non è quella di sempre, dopo vi spiego. Allora, appunto, altra settimana insieme, altra settimana passata, altra settimana ricomincia e questa è quella che va dal 24 al 30 e ormai siamo nelle sgocciole anche con gennaio. Allora, dopo faremo i saluti come al solito e apriremo le ovette ancora a Kinder e questa volta di Miraculous le ho trovate, penso che siano nuove perché comunque non le avevo mai viste e non ho preso ancora quella di Puffi, logicamente quella l'avevo già prese e apriamo insieme queste. La mia agenda ormai sapete benissimo che è questa qua, l'ho già preparato nei foglietti, dentro, così e la decorazione è Molang, questo puccioso, pucciosissimo. Questo qua l'avevo preso da Aliexpress, credo, questo paper tape se non mi ricordo male. Eccolo qua, con su lui, patatoso. E i den, questi, sono gli sticker che andremo ad attaccare tra poco, che sono sempre appunto di Molang. Questi qua pucciosi, un po' quadrati, un po' rotondi, che poi faccio vedere alcuni li ho già tolti e sono questi fatti un po' così, tutti pucciosini. Penna, questa. E adesso andiamo a scrivere subito i giorni. Allora, aspettate, 24 lunedì. Ed è questa Fluo qua che ho scelto, di Stabilo. Mettiamo un po' di color Fluo. Allora, non scrivo lavoro. Vi spiego il perché. Adesso io sto registrando questo video perché sono un po' in forze. e lo sto registrando un pochino prima. Ovvero, lo vedete di lunedì, ma io lo registro due giorni prima. Perché, non so, non ho la certezza di tornare al lavoro, non si sa. Dipende dal puff puff nel naso. Dico puff puff perché non voglio fare altri nomi. Chi ha capito, capisce. Purtroppo anche la family Nick è stata colpita da quello schifo. Che sapete tutti, non faccio il nome. Anche se avevamo tutti la zicchi zicchi nel braccio. Anche in quello non faccio il nome. Però capite cosa intendo. Insomma, si sente anche un po' dalla mia voce che comunque siamo lì lì. Da qualche giorno siamo così. Ci ha colpito abbastanza. Anche se avevamo la zizic. Non so cosa dirvi. Non voglio dire nient'altro. Perché se no mi dilungo e faccio il racconto di quando non finiamo più. E non ne ho voglia. Perché già sono quasi tre anni di sta rottura. E ci ha stancato un pochino a tutti sta cosa. Già se prima senti la televisione lo senti qua e là da tutte le parti. E se ne è un po' piene le scatole. È arrivato anche da noi. Grazie a quelli che hanno riaperto le scuole. E comunque, vabbè, dico solo questo. Ma non voglio più polemiche. Perché poi, insomma, scuole non scuole. Quello non quello. E lo trasporti, non trasporti. Tutto l'insieme, insomma, colpisce e basta. Punto stop. Fa niente. L'importante, facciamo tutti gli scorgiuri al mondo, non stare malissimo. Però, comunque, non ci ha beccato leggero, ecco. Allora, 25 martedì. E perciò non scriverò lavoro. Poi vi farò vedere la settimana prossima se sarò rientrata. Vi farò sapere o no. Niente. Comunque, andiamo lo stesso con la nostra decorazione, i nostri speaker, le nostre aperture delle cose. E chi se ne frega, dai. Allora, 26 mercoledì. 28 giovedì. Poi 29. Venere. Diastrante. Ma all'andata non ho sbagliato scrivere i giovani, che ogni tanto capita che sbaglio. Aspetta, ne. 24, 25, 26. Invece ho sbagliato. Invece ho sbagliato. Aspettate. Correttore. Vedi? Sembrava strano. Sbaglio la normalità. Allora, 28, 27. Adesso non scriverà mai questa. Sì, ce l'abbiamo fatta lo stesso. Poi 29 sabato. E 30. Domenica. Che però qua al mio meditatore là lo scriviamo lo stesso, perché comunque sarei a casa comunque. Comunque vadano le cose. Questo è il mio Relox. E ormai è una prassi che c'è nel video della Nica. Allora. Adesso andiamo a prendere il pastello di questo colore. Che ce l'ho? Quello della Giotto, se non sbaglio. Eccolo qua. Sì. Più so meno se... C'è chi ogni tanto che mi vede usare i pastelli. Mi chiede sempre quelle che marca sono. Allora io faccio sempre vedere almeno. Ecco qua. Ok. Eccoci. Et voilà. Adesso andiamo ad attaccare gli stigure. Vediamo un attimino. Allora. Non so se mettere questo qua così. Che non è male. Poi metterei questo qui. Questi due verdi qui così. E poi ci sono anche questi rotondi che sono fantastici. Possiamo fare così, così. E facciamo così e così. Dai che carino. Ma ne manca uno certo. Andiamo a sceglierlo dopo. Cominciamo ad attaccare questi. Sennò poi mi confondo. Eccoci qua. E' troppo pucci questo qua. Poi con il... Con il chupa e chupa qua. Che carino. Allora andiamo. Si staccano anche alla svelta. Meno riesco ad attaccarli anche più veloce. Non ben po' che li avevo presi questi però. Forse li avevo usati una volta. Non mi ricordo. Non mi ricordo. Se avevo già fatto una decorazione di qualcuna di voi. Sì. Forse. Allora. Ne manca uno. Mi avevano detto. Eccoci qua. Vediamo, vediamo. Io lo attaccherei rotondo. Sì, dai. Vediamo uno di questi che belli che sono. Dai, attacchiamo questa qua con le rosilline. Aspettate che li metto via. Qua comunque le scatolette sono da 46. Non so se ci sono ancora. Sì. Ve le trovate in giro su Aliexpress. Se vi interessano le scatoline qua con questi sticker. Ci sono sempre. Di tutti i soggetti possibili al mondo. Ecco qua. Io penso che così. Dai, carina. Semplice. Ultimamente le faccio semplici. No, dai. Qualcosa faccio anche un po' più di elaborato. Ma prendetemi così questa settimana. Dai, carina. Lui è pucciosissima. Se andiamo a mettere un attimino nell'agenda. Poi. Finirò di compilare. E vi farò vedere. Quello che sarà. E l'ho aperta così anche. Eccoci qua. Et voilà. Qua scriviamo sempre video agenda. A lunedì come al solito. Con i saluti. E se non siete in questi. Riscrivetelo. Vuol dire che vi ho dimenticato di scrivere solite cose. Più saluti. E non perdetevi gli altri video durante la settimana. Mi raccomando. Allora. Devo salutare. Vediamo, vediamo, vediamo. Andiamo a cercare la pagina. Allora. Eleonora e suo figlio Alessio da Modena. Ciao. Giulia e Alessandra. Ciao. Stefano Noero. Ciao. Gavino. Ciao. Mary 96. Ciao. Claudia. Ciao. Dani. Ciao. Sissi Clietta. Ciao. Veronica Di Tolve. Ciao. Maria Rosaria Morvillo. Ciao. Anna Rita Picchler. Ma non so mai se ce lo dico giusto. Picchler o Picchler. Scusami. Anna Rita. Ciao. Sara E. Ciao. Veronica Di Tolve. Ciao. Elisa Mesaroli. Ciao. Ciao. Anna Laura. Ciao. Lina De Rosa. Ciao. Giulia Meteori. Ciao. Giada Boschetti. Ciao. Antonia D'Achille. Ciao. Mari Giano. Ciao. Voilà. Andiamo a aprire il cioccolato. Che tira sul morale. Vai così. Allora. Una su tre come sempre. Niente. Vediamo. Qua c'è scritto. Dovrebbe essere in queste versioni qua un po' vestite diversamente qua. Vedete che c'è su lei Ladybug. Andiamo a aprire. Andiamo a aprire. Una su prima su tre. Perciò. Solita prassi dovrebbero essere. Ah. Che carine. Quello rosa. Quello rosa. Fiorellino rosa. Vediamo. Di fuori tutti e tre. Ecco qua. Vediamo se riesco a fare l'assaggio cioccolato. Mamma. Non è che ne ho tanta voglia adesso. Vediamo. Uh. Ah. Aspetta. 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 Questo qua è già quello colore. Che poi qualcuno di voi mi ha scritto. Sì. Nica quello colorato. C'è un codice. Adesso non mi ricordo. Comunque mettiamo via. Dai mi faccio lo sforzo perché non è un video della Nica se non faccio anche un piccolo assaggio. Piccolo piccolo piccolo. Guardate. Per partecipare bene. Allora. Andiamo a aprire che è subito arrivato. Uh. Che bello proprio lei ho trovato. Vediamo vediamo. Allora. Miraculous. E proprio lei con quel vestito qua. Che meraviglia. Guardate che bella che è. Spero che si veda bene. Sì. Ok. Andiamo a metterlo insieme. Proprio col vestito così elegante. Wow. Guardate. Riesco a chiuderlo bene perché sono un po'... Vediamo. Ce la posso fare. Forse. Ah no. Era al contrario. Ecco qua. Voilà. Che bella. Proprio quella. Quella molto. Che mi piaceva. Perché poi c'era su anche. Lei. E vabbè lui. Però lei era più bella. Logicamente. Si può mettere da qualche parte. Riuscire a agganciarla da qualche parte. Comunque guardate che bella lei. Con questo vestito da sera. Vabbè così. Mette più a fuoco. Vediamo. Avviciniamo un pochino. Ecco. Ok. Adesso andiamo a vedere gli altri. Che vabbè ormai. La sorpresa. Proprio. Quella che ci interessava di più. L'abbiamo trovata. Vediamo se c'è qualcosa di carino. Le apriamo già tutte e tre. Così almeno. Ecco. Infatti qua c'è il giallo. E andiamo ad aprire anche il terzo. Vediamo. Vediamo. Vedete che sono curiosa. Che tante volte si trovano tante cosine carine. Tante volte purtroppo no. Come questa. Mi sa che non è quella che... Che non è che mi interessa più di tanto. Però vabbè. Si sa. Le sorpresine. Sono sorpresine. Quello che trovi trovi. Allora. Cos'è un drago? Sì. Un draghetto. Dai carino. Aspettate. Vediamo se riusciamo a montarlo bene. O è un problema qua. Ci impiediamo tre ore solo a montarlo. Ok. E trovare i pezzi dopo. Aspettate. Questo così. Questo dovrebbe andare... Ok. Così. E ce l'abbiamo fatta. Poi. Questo qua. Ok. Dovrebbe andare... Così. Non credo di aver sbagliato. No. Allora. Uno. Due. Poi tre. Ci va sopra. Questo coso qua. Ce la posso fare. Aspettate. Questo. E questo robo qui così. Ok. No. Non lo so. Così. Forse così. Sì. No. Sì. No. No. Sì. No. Sì. Non lo so come va sto coso. Non connetto tanto. Poi qua dovrebbe andarci sto coso qua. Che dovrebbe essere il drago. Comunque ragazzi. Portate pazienza. Non riesco a montarlo. Lo monterò con calma. Andiamo a aprire il terzo. Però un po' complicata la cosa. E questo è già più semplice invece. Comunque dovrebbe uscire sto drago qua. Queste sono le ali. Giusto per fargli vedere questa è la testa che non si capisce tanto bene. Però va bene. Infatti non è molto bello questo. Sono sicera. Andiamo a vedere questo qua che forse è più bello. Come piace una a me. È più puccioso. Allora. Terza sorpresina più bella ancora. Vediamone. Questa. Allora. Che carino che ha quel tuo qua l'orsetto. Questo mi piace. Meno male. Che caruccio. E questo si. Vorrebbe muoversi in qualche modo. Credo. C'è scritto che si muove. Cioè c'è scritto. C'è il disegno. Dovrebbe alzare e abbassare la testa. Vediamo. Magari ho montato qualcosa. Non dovevo. Ah giusto. Vabbè. Comunque è bello. Almeno questo. L'orsetto. L'orsetto polare. È davvero puccioso. Niente dai. Sono contenta che ho trovato lei. Bene bene. Niente fatemi sapere nei commenti. Se dimenticato qualcuno. Riscrivetemi. Il solito che vi dico sempre. Così vi saluto la prossima volta. E niente. E buona settimana a tutti. Ci vediamo lunedì prossimo. Con il Play With Me. In settimana. Non perdetevi gli altri video. Un bacione della Nica. Ciao. Ciao.